Sarà obbligatorio per le discipline di alta quota il kit ARVA. Lo ha deciso il tavolo regionale per la sicurezza in montagna con l'assessore Guido Liris che ha dato l'ok alla modifica della legge. Al centro del dibattito la sicurezza in montagna sia nel periodo invernale che estivo visto che la bella stagione è alle porte. Sono stati proposti dei gate o punti informativi nelle zone montane di maggior afflusso nei periodi estivi che fungano da filtro per limitare le escursioni da parte di cittadini non correttamente equipaggiati. L'assessore Liris ha presentato anche la possibilità di acquistare il dispositivo recco per elicotteri da parte della regione Abruzzo che diventerebbe la prima regione appenninica ad esserne in possesso. Nel corso dell'incontro è emersa l'importanza di riproporre in Abruzzo il modello già esistente nelle regioni alpine che prevede il pagamento di un ticket per impreviste di natura non sanitaria. Questo per fare da deterrente e disincentivare avventure in montagna non consapevoli. La legge verrà cambiata, ci sarà una nuova legge. Abbiamo stabilito che fuori delle zone di sicurezza ci sarà l'obbligatorietà dell'utilizzo di arpa palessonda non soltanto per l'uscita alpinismo ma per tutte le pratiche ad alta quota. Abbiamo stabilito di porre l'attenzione su gate, cancelli, punti informazioni sulle vie da flusso maggiormente inflazionate in particolar modo d'estate. Abbiamo stabilito di dare una sede al soccorso alpino al CAI anche nel capologo di regione, nelle sedi di istituzione della regione Abruzzo. Abbiamo pensato e stiamo costruendo il percorso per un ticket laddove ci saranno degli interventi non sanitari di soccorso. E poi in ultimo la promozione della formazione e dell'informazione anche con la possibilità di acquistare da parte della regione Abruzzo il famoso dispositivo Recco per andare a trovare dispersi in alta quota. Oltre alle tematiche di natura tecnica il tavolo ha deciso di istituire due giornate di formazione, una ad inizio estate e l'altra ad inizio inverno sotto il coordinamento della protezione civile regionale con l'obiettivo di avvicinare la popolazione abruzzese alle istituzioni e alla cultura della montagna.